Buonasera signori, intervista MVP Federico Corporente della Sampdoria, partita appena terminata contro la New Eagles 3 a 4, ricordiamo anche il portiere che è la prima volta di giocare, come ti chiami? Antonio Sades, riprendiamo dal passato del collegamento effettivo Corporente, adesso ti arriva anche la medaglia, come è andata la partita? È andata inizialmente difficile, equilibrata, poi noi abbiamo preso un po' più il sopravvento, il portiere infatti migliore in campo ha fatto un sacco di parate assurde, miracolose, però siamo riusciti a vincere e questo è l'importante. Fede, oggi avete conquistato altri tre punti importantissimi, specialmente venite da una partita che avete perso diciamo ingenuamente all'ultimo minuto contro il Porto Ruano. Spero che questa vittoria vi faccia salire di umore per tutto il proseguo del torneo. Dobbiamo recuperare con gli esperanzi, facciamo anche tre punti qua, siamo bene in classifica. Perfetto, passiamo la parola al number one della New Wiggles. Complimenti, la tua prima partita esordio, come l'hai vista la squadra? Un troppo amaro, però comunque ho cercato di dare il meglio di me. Eh vabbè sì, uno cerca sempre di dare il meglio. Oltre a te ho visto anche due Nesti, fratelli autore, quanto ho capito, fanno così. Come la vedi questa squadra con te e anche con loro due? No, diciamo che la squadra non è male, ai primi minuti abbiamo giocato bene, noi abbiamo fidato 2 a 2, vinciamo anche 2 a 1. Poi nella ripresa abbiamo calato un po' di ritmo e ci hanno condannati. Senti, vuoi salutare qualcuno? Questa intervista la vedrai nel sito, non so se conosci, dopo ti spiego bene. Puoi salutare nessuno? Bene così. Ok, diamo il collegamento, complimenti, bravissimi. Grazie.